A me piacciono soli i videogame. Io non ho amici. Odio fare ginnastica. L'allenatore mi guarda sempre. Ho un sacco di amici su internet. Tutti chiedono le mie foto. Vado a dormire tardi. Penso sempre al terremoto. Non basta ascoltarli, bisogna capirli. Noi lo facciamo da oltre 25 anni. Scegli di stare con noi. Telefono azzurro dalla parte dei bambini.